Ciao ragazzi per ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo di Race to Donate. Ragazzi, io voglio ringraziare Federico Testa per questa opportunità di poter dare un contributo ad una causa nobile. Mi fermo e vi leggo il messaggio di Federico Testa, ovviamente della comunità di Motorsim Italy, che dice Motorsim Italy continua con il supporto alla campagna di sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo promosso dal dottore Alessandro Marchetti, anche lui pilota di GT4 Reale. Questa volta faremo un all-in e vi invitiamo a prendere parte al prossimo trofeo Race to Donate monobarca con Mercedes AMG GT3 su tre round. Il nostro amico Giando ci ha preparato per l'occasione una bellissima livrea dedicata per l'occasione in modo da dare più visibilità possibile al messaggio Race to Donate. Alessandro, reduce da una malattia molto seria, la leucemia sta guarendo grazie al contributo dei donatori di midollo e spera che tanti possano iscriversi tra i potenziali donatori. La donazione di midollo è completamente indolore perché avviene con una semplice donazione di sangue, nel quale sono contenute le cellule staminali in grado di rigenerare il midollo del malato. Per diventare potenziali donatori non dovrete fra altro che iscrivervi qui, quindi a donatori.gagliera.it prescrizione, ovviamente ragazzi vi lascerò tutti i link qui in descrizione del video. Invitiamo tutti i piloti dai 18 ai 35 anni a pre-registrarsi per dare la speranza a chi è malato. Parlando di gare, le gare del trofeo verranno trasmesse in diretta sul canale di Motorsim Italy e verranno commentate da Riccardo Alidori. Le auto scelte saranno la Mercedes AMG GT3 e la AMG GT3 Evo con la livrea personalizzata, ovviamente su assetto corsa competizione su PC. Per info e iscrizione ragazzi, discord.io su slash Motorsim Italy e c'è anche un account Instagram creato ad hoc, instagram.com slash race to donate. Ragazzi, questo qua è il messaggio di Federico Testa per la comunità di Motorsim Italy, race to donate. 3 gare, quindi 8 settembre oggi a Monza, 15 settembre al Nurburgring, 22 settembre a Spa. Ragazzi, non ho niente da aggiungere se non di chiedervi di sensibilizzare un massimo di persone per la donazione del midollo osseo, che come diceva nel suo messaggio Federico Testa è assolutamente indolore, è solo una donazione di sangue, e che queste cellule staminali possono veramente salvare delle vite. Ragazzi, ringrazio nuovamente tutta la comunità di Motorsim Italy e ancora di nuovo Federico Testa per avermi dato questa possibilità di poter dare un minimo contributo per una causa così nobile. Ragazzi, per questo video sfondate il tasto dei like, condividete ragazzi, parlate di questa possibilità di salvare delle vite umane e come al solito, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo. Da Fabrizio è tutto, un abbraccio. Mi raccomando, seguite le dirette, partecipate, siate spettatori. Ciao ragazzi, alla prossima!